Avevo messo Simba e Eric in flebbo, ha detto metto a Simba con la flebbo e se la fa pure lui. Ah, è ripartita, finora piegato lo teneva, che non scendeva. Simba va pianissimo, non lo stronzo Simba. Lui l'ha toccato là sopra. Guardalo, 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 ti devo coprire? Guarda, l'ha bloccata di nuovo, non la fa lui, ci voleva la pompa di infusione per lui, proprio stronzo, vedi non scendeva, lo teneva piegato. Ah, poi è piegato l'altro. Non si può collegare, no? E se la fa, no? Allora, lui è bravo.